Ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di Around the Table. Oggi non accorciamo la vita a nessuno, è il primo dicembre e quindi siamo pienamente intitolati nel domandarci ma a che gioco possiamo giocare durante le feste? Quindi cappello da babbo natale in testa e risponderemo a questa domanda e rispondiamo a questa domanda con i giochi che io definisco over, ovvero che superano i 60 euro. In realtà ve ne segnalerò qualcuno che costa qualche centesimo in meno di 60 euro, ma comunque sono 60 euro. Per darmi una mano nell'ossilare questa lista ho chiesto ancora una volta una mano agli amici di Artemis ma questa volta anziché attaccarvi il pippone che vi attacco da tre settimane a questa parte vorrei fare un paio di chiarimenti. Il primo, forse il più importante, volevo ribadire che non esiste alcun tipo di affiliazione economica tra me e Artemis quindi vuol dire che non è che se voi andate in negozio o vi iscrivete al canale Telegram dicendo che ti ho visto su Rando Table allora lui ogni tot persona mi regala un gioco o mi fa uno sconto particolare no, in realtà il Artemis aperto un annetto fa e da un annetto praticamente sono un cliente assiduo per tutte le motivazioni che vi ho detto negli scorsi video e frequentando il negozio abbiamo cominciato a parlare e a confrontarci e è successo che praticamente abbiamo creato una sorta di community non solo tra me e Renato ma anche tra gli altri avventuri nel negozio ci confrontiamo sui giochi, ne parliamo e quindi conosciamo le nostre e i rispettivi gusti. l'altra cosa è che parlando abbiamo, ho apprezzato sempre di più la passione che Renato ci mette nel cercare e proporre i propri giochi e quindi mi è sembrato naturale chiedere un aiuto a lui per girare questi video quindi è per questo che ho chiesto a Dirtemi di darmi una mano inoltre l'altra cosa che volevo puntualizzare è perché ci abbia messo, mi si è anticipato così tanto l'anno scorso l'ho fatto praticamente solo a dicembre facendo due video a settimana no, questa volta volevo darvi la possibilità di studiare i giochi che vi propongo magari confrontarli con altri canali YouTube magari cercarne un paio io, acquistarne un paio io e portarvi la che gioco stiamo giocando per darvi la possibilità di inquadrare bene il gioco che voi volete giocare durante queste vacanze e magari chiedere a un negoziante fisico di procurarvelo se non lo ha già il negozio così magari potete provare anche voi la gioia che ho provato io nel cominciare a rifrequentare un negozio fisico che vende giochi da tavolo in realtà io ho un altro negozio fisico che frequento da tantissimo tempo che è la mia fumetteria in Chiostra e Tempra sono delle cose che diamo per scontate ma diventano molto molto belle quando si può avere un rapporto in cui si parla di tutto all'interno di un negozio poi se avete dei negozi in cui i proprietari sono antipatici e non vi fanno avere i giochi beh potete tranquillamente comprare i giochi online o dove vi pare ma banda le ciance sediamoci sotto l'albero per scoprire a quali giochi possiamo giocare con 60 euro e over il primo gioco che vi devo assolutamente segnalare è l'assedio di Runedar questo gioco è proprio tutto quello che mi piace è un gioco super freak perché all'interno della scatola l'inserto diventano le miniere da cui devono fuggire i nani queste miniere sono cinte da assedio da goblin, troll, orchi e noi dovremo tentare di fuggire tramite un sistema di deck building e risolvendo alcuni combattimenti con i dadi il gioco che potrebbe sembrare solo freak ha anche una discreta dose di strategia perché dovremmo essere attenti a come adoperare le nostre carte da come me l'ha descritto Renato Dirtemis è un gioco niente affatto male l'altro gioco che vi devo assolutamente segnalare è Star Wars Clone Wars Pandemic System un gioco pieno di miniature di Star Wars col sistema di gioco di Pandemic non si dovrebbe discutere e molti di voi si chiederanno come mai non ve l'ho ancora portato sul canale perché non l'ho subito acquistato in realtà perché lo scorso anno ho giocato veramente troppo poca Wonder Warcraft The Lord for the Age King e non volevo far prendere polvere sullo scaffale anche un gioco dedicato a Star Wars però ne ho parlato con Renato Dirtemis e lui si sta divertendo davvero tanto a giocarlo nonostante stia perdendo spessissimo sembra quasi come me che perdo sempre questo gioco ha il sistema di gioco di Pandemic ha tantissime miniature di Star Wars e quindi penso che forse forse un pensinino ce lo dovrò comunque fare un altro gioco che mi interessa e che ha colpito subito la mia immaginazione Starship Capitans questo gioco ha le grafiche di Star Trek e poiché anche se io sono uno Star Warsista devo dire che non mi dispiace affatto in questo gioco dovremmo gestire l'equipaggio quindi premiandolo, addestrandolo promuovendo i membri di questo equipaggio delle nostre navi in tema Star Trek di questo gioco non so moltissimo so soltanto che dovrebbe arrivare entro Natale per Craneo Creation poiché mi ricorda tantissimo Star Trek Lower Deck ci sto facendo più di un pensierino l'ultimo gioco a tema spaziale che vi voglio segnalare è Twilight Inscriptions insomma il Roll and Write di Twilight Imperium questo gioco è Twilight Imperium ma senza metterci tre anni e mezzo per fare il setup di Twilight Imperium in questo gioco su queste planci riscrivibili bellissime con questi dati super mega fighi potremmo ricreare tutto quello o quasi che si fa in Twilight Imperium quindi dovremmo esplorare espandere la nostra influenza conquistare e sviluppare la nostra società insomma penso che possa essere una buona alternativa al colossale Twilight Imperium vorrei parlarvi anche dei gestionali per quanto io non sia un mega appassionato di questo genere confrontandomi con Renato Dirtemis abbiamo subito notato Woodcraft in questo gioco dovremmo gestire la nostra officina di falegnaveria attraverso sette azioni dovremmo gestire i nostri dadi legno combinandoli incastrandoli tagliandoli costruendoli al fine di diventare i migliori artigiani della foresta questo gioco mi ha colpito prima di tutto per le grafiche davvero molto molto accattivanti e anche perché non sembra affatto male come gestionale se in Woodcraft eravamo gli artigiani i nichi siamo gli imprenditori che devono gestire i propri artigiani il tutto in un'ambientazione Edo ovvero del Giappone tardo medievale molto molto accattivante di questi giochi si sono due versioni una versione più vecchia una versione più moderna non so se le immagini sono dell'ultima versione però vi assicuro che entrambi le grafiche sono veramente molto molto fighe in questo gioco di piazzamento set collection pianificazione a breve e lungo termine come vi dicevo dovremmo interpretare questi imprenditori che in questa via di questo mercato dovranno gestire i propri artigiani il gioco sembra veramente ben fatto e a mio avviso è una bomba atomica un altro gioco che mi ha subito balzato all'occhio ogni volta che entro da Irtemis è Bitoku in questo gioco dovremmo gestire gli spiriti della foresta siamo noi gli spiriti della foresta anche in questo tipo di gioco ci sono un sacco di meccaniche che si combinano parlando con Renato di Irtemis mi ha descritto un gioco che è estremamente semplice ma complicato da un sistema di punteggio che lo ha appesantito per quanto mi riguarda resta una scelta molto interessante anche solo per il tabellone che sembra perfetto per le amiche del club della tovaglia ditemi la vostra opinione perché sono molto indeciso su questo gioco e ora passiamo a una categoria di giochi che sta diventando sempre più di moda negli ultimi anni le avventure narrative nell'ultimo anno sono usciti due giochi che mi hanno colpito tantissimo il primo è oltre oltre l'ho visto da Irtemis in antiprima e mi ha veramente molto colpito ogni volta che ne parlavo con Renato mi parlavo di un'avventura estremamente grande estremamente interessante tantissime side quest da poter risolvere il gioco è veramente molto molto bello e ha questa grafica un po' agi che lo rende ancora meglio ambientato davvero un gioco che mi ha colpito tantissimo anche in questo caso sarebbe un peccato non riuscire a completarlo anche perché a quanto mi ha detto Renato di Irtemis è un gioco che ti fa venire voglia di fare 50.000 partite una via l'altra lo stessa tipologia di gioco ma con un tema leggermente diverso è le avventure di Robin Hood anche di questo gioco sono rimasto folgorato dal libro dell'avventure ma anche dall'idea di rendere il tabellone una sorta di calendario non dell'avvento ma dell'avventura infatti arrivando in un determinato punto del tabellone e aprendo la casella che ci troviamo sotto possiamo accedere a un'avventura nel libro delle avventure per l'appunto anche questo gioco mi ha colpito tantissimo per la tematica e le grafiche sono molto indeciso se prenderlo o meno così come mi ha colpito tantissimo storie di famiglie questo gioco sembra la continuazione diretta di My Saint Mystics e di Fiabbe di Stoffa però purtroppo è quello che mi convince meno di questa serie perché già sono rimasto un pochino scottato da Fiabbe di Stoffa per quanto io considero ancora oggi My Saint Mystics un gran capolavoro voglio sapere da voi cosa ne pensate e se va la pena acquistarlo fatelo sapere perché ci tengo in maniera particolare l'ultimo gioco che vi segnalo è anche forse il più interessante di questi giochi narrativi sto parlando di Sleeping Gods Sleeping Gods è il nuovo gioco di Ryan Locke non lo so dire insomma l'autore di Nier and Far Abobilo Roham i suoi giochi mi sono sempre piaciuti tantissimo e parlo soprattutto di Nier and Far e Abobilo sono degli ottimi gestionali con l'aggiunta di queste storie però se devo essere sincero ogni volta che ho giocato ad Abobilo e Nier and Far ho trovato che la parte narrativa fosse troppo poco integrata nel gioco e fosse messa solo giusto per mettere una parte di storia ma non avesse un vero e proprio senso da quanto ho letto invece in Sleeping Gods la storia ha un senso ha un ruolo ha un'importanza reale a quanto pare ci saranno delle parole chiave che ci dobbiamo portare dietro durante l'avventura a quanto ho capito è una sorta di libro game all'ennesima potenza e tutto ciò non è affatto male inoltre rispetto a oltre le avventure di Robin Hood ha un'ambientazione marittima su una barca che dovrebbe essere ambientato negli anni 30 un po' come gli insondabili dello scorso anno ci tengo molto a sapere da voi soprattutto cosa ne pensate di questo Sleeping God se avete avuto modo di studiarvi il regolamento oppure di provarlo perché mi interesserebbe tanto sapere se finalmente Lutwak Lutwak non so se mai dico il nome dell'economista quello del game designer sia riuscito a integrare in maniera migliore le sue storie all'interno dei suoi giochi e con questo gioco si conclude la serie in cui rispondiamo alla domanda a che gioco possiamo giocare durante le feste spero che questi video vi siano stati utili e che abbiate trovato dei giochi da regalare regalarvi e farsi regalare durante queste feste e magari perché no semplicemente comprarli per giocarci dalla prossima settimana tenterò di acquistare alcuni dei giochi che abbiamo visto in queste settimane per portarvi qui sul canale la che gioco stiamo giocando o l'unboxing scrivetemi nei commenti quale vorreste vedere a questo punto vi voglio fare un invito come avete visto io sto frequentando Irtemis ed è grazie a questa frequentazione se vi ho potuto portare qui sul canale una serie di video di giochi così varie in questi video l'invito che vi voglio fare è tentare di trovare un negozio fisico nella vostra città e se siete nella mia perché no andare anche da Irtemis per restaurare il rapporto di community come io sono riuscito a restaurare in un anno con Renato di Irtemis così da poter trovare un confronto materiale con una persona spesso ci limitiamo a internet ma non sappiamo che tipo di giocatore giudica giudica il gioco di cui vogliamo avere un'informazione frequentandosi fisicamente magari è più facile capire che tipo di giocatore giudica il gioco in una determinata maniera quindi potrebbe anche essere un aiuto per aiutarvi a selezionare i miei giochi o semplicemente trovare dei nuovi compagni di gioco a questo punto non resta altro che salutarci per ritrovarci sempre qui sempre erando Tebole ciao a tutti e buon Natale ciao a tutti